buon dia a tutti ragazzi vita universitaria episodio 4 come avete potuto vedere anche oggi abbiamo acceso un bel fuocarello se ricordate nello scorso episodio abbiamo fatto un successo appunto il fuoco è un fardimento la tv che però come vedete funziona perché abbiamo rimesso il decoder sky ma oggi la cosa più interessante è questo fuoco perché no si sta abbassando cazzo vabbè vedete già la fiamma adesso è un pochino abbastanza alta però guardate un attimo dove sta arrivando adesso la fiamma ecco poco fa arrivava ecco no ecco andava molto ma molto più in alto di così perché perché secondo una tecnica di lui prima di accendere abbiamo posizionato la fiamma che si è stata la fiamma abbiamo posizionato la legna adesso anche lui sta facendo un po che immagini abbiamo posizionato la legna adesso ci ha messo il dell'olio che avevamo usato per friggere patate fettine ha messo sopra abbiamo acceso il fuoco è in stato a scoppietare a manetta come se stessimo friggendo chissà che cosa e si è espressionato una fiamma che è molto più alta di come adesso ovviamente e arrivava fino a molto più in alto però è una cosa mostruosa ragazzi davvero si state chiedendo dov'è l'altro il mitico Josh sta male non è potuto venire e quindi niente con questo fuoco ci salutiamo qui guardate la messa così da la messa così da